Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video Allora, rieccoci su Tokalife So che lo stavate aspettando in tantissimi Se ha questo nuovo cambiamento Se ha video di Toka Però, eccoci qui Allora Vi dico perché non portavo più video di Tokalife Perché a parte che stavo in vacanza Quindi per due settimane non ho portato più video Ma vabbè Però ho fatto solamente i video di Roblox in vacanza Che usciranno mano a mano In frequenti giorni Allora Il cambiamento Ora parliamo del cambiamento Il cambiamento È che Siamo due, non più cinque Quindi non è una famiglia Siamo solamente una coppia Allora, io mi chiamo Marika E il mio fidanzato si chiama Brian Allora, come potete vedere Siamo qui al centro commerciale Per comprare un po' di cose Perché noi dobbiamo andare a vivere da un'altra parte Non più dove viviamo Prima C'era una casetta piccola Ma ci dobbiamo trasferire Allora In palazzo Quindi avremmo Scensore Tutto quanto Quindi è un palazzo Normale Però ha soli due piani In questi due piani Ovviamente ci sono due case Quindi in un piano ci sono due case In un altro Altre due Noi faremo vedere quale casa abbiamo preso E nulla Ora però incominciamo a fare shopping Ovviamente la giornata Oggi non è che ci sarà Ma vi faremo vedere un po' Tutta la casa Il trasloco Trasloco non tanto Cioè in realtà Perché nella casetta piccola Non è che avevamo chissà che Cioè lasciamo pure là Per i nuovi che arriveranno Perciò Così anche perché la nuova casa Dove andremo È già redata Comunque Non perdevoci in chiacchiere Ora Compro un po' di cose Compremo un po' di cose Allora Io ho comprato In un altro negozio Tre borse E poi questo completino Aspettate Questo qua Qua però l'ho comprato Io invece Non so cosa prendermi Perché non è che mi piace più di tanto Quindi penso che andrò a vedere In un altro negozio Ok Però io sinceramente Prendo Queste cose Anche questo Perché quando fa freschetto Va bene Non mi piace Ah E ovviamente Prendo anche questo Va bene Quindi Non vuoi niente? Sì sì Ecco Io ho comprato Queste cose Praticamente Ah certo certo Carello? Sì grazie Ok andiamo Portarlo tu perché Io non mi voglio portarlo Sì andiamo Andiamo E ovviamente Lato skin care Devo portare assolutamente Una maschera Viso Creme Tutto Smalti Non lo so Però devo portare queste cose Quindi Allora Prendo questa maschera Bene Poi prendo Questo qui Questo kit giallo Molto carino E Ovviamente Con anche La maschera Per i capelli Ok Possiamo andare Ah ovviamente Copreremo anche Altre cose Tipo Non lo so Vedremo Ok Siamo arrivati Al piano Inferiore Quindi Praticamente Il primo piano Per comprare Un po' di piante Allora Scelgo io Perché Sono molto più Alla moda Come se non scegli tutto tu Ma vabbè Cose per la casa Ovviamente Devo sceglierle io Salve Salve Allora Vorrei Una pianta Che si abbina Diciamo Pianta verde Cioè Fiori verdi Non lo so Certo Certo Allora Può prendere Sia Il kit Per fare appunto Questa pianta Cioè Questi semi Di 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 Quello che Vuole lei E il vaso O se no Può prendere Questo qui Che è già Praticamente Coltivato Diciamo Simili a questo Grazie Poi Vorrei anche Diciamo Diciamo Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata Ah ovviamente Prelevo anche i soldi Mantieni qua Che prelevo I soldi Ok Ecco fatto Giusto per non tenerli in mano Ma vabbè E ora E ora ce ne andiamo Dal Super Mercato Buonanotte Dal centro commerciale E andiamo A parte a vedere un po' la casa E poi vi farò vedere tutto Eccoci qua Allora A casa nostra È Questa Che vedete qui Allora Questa è la nostra posta E questa è Del vicino Diciamo E entriamo Subito Allora Forse cita anche Il signore delle pulizie Perché Potevo dire Ovviamente Allora Questo è il bagno Ecco Infatti Buongiorno Buongiorno Ci stiamo un po' vedendo la casa Giusto Così Qui C'è Un letto a castello Allora Non abbiamo figli Lo sappiamo Ok Però Ricapitoliamo Non Diciamo Ora non abbiamo figli Però poi dopo Non lo so Chi lo sa E vabbè E ora vi faccio vedere Infatti Allora Quando sono più piccoli Dormiranno Nella culla Però Non vi farò vedere Tutto Non saranno piccolissimi Poi All'età di Due anni Già Incominceranno A dormire qui Perché Ovviamente L'abitueremo così Questo È Questa è la cucina E questa È la camera Da letto Di mio E mio Fidanzato Non so perché Guardate E qui C'è il tavolino fuori Dove potremmo mettere Anche Un po' di piante E vabbè Allora Io ho finito Di pulire tutto Quindi io vado Voi dovrete Appunto Arridare tutto Sì sì Lo sappiamo Lo sappiamo Va bene Va bene Ciao Devo prendere Tutto 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 Questa Ovviamente È loro Perché Vabbè E ora vado via Ok Allora Io aiuto A mia No Vabbè Basta Cioè Non lo so perché Dico Io aiuto A Marika A mettere a posto Tutto Però Devo ancora comprare I miei vestiti Quindi tra un po' Scendiamo di nuovo E li andiamo a comprare Allora Oggi La rediamo Però non passeremo La notte Perché appunto Non è proprio Tutta redatta Infatti Vabbè Facciamo Allora Qui sopra Tutte le mie borse Perché Devono starci E Deve stare Tutto Tipo Le cose Di mio marito Tutto Tutto E ovviamente Anche le mie Poi E questa La possiamo Anche Buttare via I vasi Di questo Perché Perché non mi piace Per niente E Neanche Brian Infatti Poi Io vado a mettere Un attimo Maschere Viso Tutto Oddio Oddio Nel bagno Sì Vabbè Buonanotte Ok Ho preso tutto 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 Allora Qui Metterò Diciamo Tutto Tutto il mio kit Perché Mio marito Non si fa La skin care Perché Dico Mio marito Non lo so Vabbè Ve lo giuro Non lo faccio opposta Però vabbè E lo metto Lì Allora Dobbiamo anche comprare Ovviamente Gli spazzolini Tutto Tutto Proprio tutto Cappatoi Tutto E io ora Sistemo I miei vestiti Allora I vestiti che metto Di solito Sono Quello che io Indosso Questo qui Perché Certe volte fa freddo Questo E questo E neanche questo Quindi le metto qui E il mio marito I vestiti che Io so spesso Li metterà qui No qui sì E poi le metteremo Anche qua sopra La mensola Qua sotto Qui ovviamente Non li metteremo Perché Non mi piace Questo Questo cambiamento E Ora Portiamo le buste Quindi Dobbiamo andare a fare Ancora shopping E questo Lo porta A mio marito Io porto il carrello Perché La scatola Poi andrà Ripita E io No Allora Ora andiamo Un attimo A Praticamente Prendere Ciotole Bicchieri Pazzo Tutto quanto Lo metteremo Qua dentro E vabbè E vabbè Andiamo Praticamente All'Ikea E vabbè Ok Eccoci qui Entrati Allora Sicuro Cuscino Ok Allora Portiamo Queste E Poi Allora Allora Visto che A me Piacciano Molto Le candele Ne prendo Prendo Questa Qui Molto 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 Ok Raga Allora Abbiamo preso Un po' Un po' Di roba Ma Ripeto Non tantissimo Perché Dovremmo andare a vedere Anche Altre Altre Negozi Sicuramente Perché Io Voglio Comprare Molta Più Roba E mi pare Ovvio Perché Dobbiamo Carvedare Tutto E Vabbè Per questo Cioè Questo Ce lo portiamo A casa Praticamente E Nulla Quindi Ora Rieniamo a casa Perché Devo vedere Anche Infatto Allora Ragazzi Siamo Distrutti Abbiamo fatto Un sacco Di spesa Questo È Praticamente Pienissimo E abbiamo Cambiato Piatti Tutto Abbiamo Cambiato Quindi Ora Entriamo a casa E sistemiamo Tutto Alla Perfezione Ma Alla Perfezione Cioè Capito E Allora Metto Questi Qui Poi Questo Lo metto Qui Mettiamo qua E Raga Tutti Cioè Poi Ho comprato Anche Pollo Raga Tutto 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 Tutti Di più Oddio Che cacchio Ho fatto Che cacchio Ho fatto Boh Allora Questi Per Praticamente Stanno qui Qua ci metteremo Gli accappatoi Che ovviamente Andremo a comprare Perché Non possiamo Menderli a comprare Poi Metto un attimo Queste cose In frigo Perché Ovvero Cioè Poi Non si può Proprio Ora Le piadine In frigo Non si possono Proprio Mettere Ok Allora Noi In realtà La pasta La mangiamo Soprattutto La La Cioè Non è che La mangiamo Proprio Tutti i giorni A pranzo Ma Andiamo anche Un po' Al ristorante Perché Noi siamo qui In questa Città Praticamente E vabbè Ho comprato Anche questo Nuovo Ma raga Cioè Si può Fare Troppo Troppo Così Allora Questo Lo metto Qui Per questo Visto che Comunque Questo frigo È abbastanza Piccolo Dobbiamo Arrangiarci Quindi Dobbiamo Mettere Tutto Quello Che ci sta Diciamo Allora La Cassa Non si può Togliere Però La vorrei Togliere Perché Non ci sta Nulla Quindi Qua Dobbiamo Praticamente Arrangiarci Allora Mettiamo Di frutta Tutto 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 E Mettiamo Questa qui In realtà Non è che ci serve Cioè Una roba così Però Non ci serve Quindi Non so Cosa Faremo Allora Abbiamo comprato Il kit Totalmente Ma è proprio Raga Il kit Di Tutto Cioè Tranne i bicchieri Di Di vitro Praticamente Ma vabbè Ciotole Per la colazione Piatti Per il pranzo Tutto Raga Tutto Abbiamo comprato Che È abbinato Poi Mettiamo Questi Siamo bene Così E Le posate Posate Mettiamo Qui Piatti Qua Questa Un po' Più In qua Bicchieri Anche E Le posate Bicchieri Qua E le posate Qui Ok A posto Ovviamente Dobbiamo fare Spesa Perché Non è che È finita Qui Poi Allora Questa Accendiamo Comunque Sì abbiamo Fatto Tanta Spesa Cioè In realtà Non poca Quindi Ci sta E Nulla Abbiamo Diciamo Arredato Casa Stavate Potremmo Anche Dormirci Volendo Però Non tantissimo Perché Ancora Dobbiamo Arredare Tutto 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 Ah Questa Camera Che vedete Qui Allora Il carrello Noi Lo lasciamo A casa Come potete Vedere Lo lasciamo Fuori Ma perché Per una Questione Di Per Non Come Dire Non Mi viene No Praticamente Per Non Occupare Spazio Ecco Per Non Occupare Spazio Ah Devo Prendere Anche Dobbiamo Prendere Padella E Tutto 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 Raga Vraimenta E Vabbè Il bagno Più O Meno Ci siamo Più O Meno Perché Dobbiamo Andrò A fare Tutto Quanto Allora Visto Che sono Passati 19 Minuti Da Quando Ho Acceso Praticamente La Registrazione Ci vediamo Domani Con Un Novissimo Video Di Toca Dove Appunto Sarà La Parte 2 Ciao